Pubblicità stradale, trasmissioni televisive, radiofoniche, telefonia e altro sono tutti ambiti all'interno dei quali il Corecom Abruzzo ha ricevuto negli ultimi tempi il maggior numero di segnalazioni. A volte i minori non hanno quelle infrastrutture psicologiche e culturali per far fronte a messaggi violenti che non rispettano la loro persona ma anche poi le famiglie e i cittadini in generale. Quindi il Corecom ha voluto pensare a ideare questa app tecnologica che è già sul sito www.corecomabruzzo.it e i cittadini possono farne uso segnalando violazioni di ogni tipo dalla cartellonistica, alle televisioni, alla carta stampata ma anche per le conciliazioni in telecomunicazioni, ossia è una app dedicata al Corecom a 360 gradi con al centro il cittadino. Ad essere interessate le categorie più deboli bambini, quelli cioè che secondo legge e statuti hanno diritto ad essere salvaguardati evitando un'esposizione massiva a contenuti lesivi. Nasce dunque un'app per rendere più agevoli tutte le segnalazioni. Sì, proprio sulla cartellonistica sta a dare, in particolare la pubblicità, abbiamo avuto molte segnalazioni quindi poter avere uno strumento che fotografa il momento, l'istante, i contenuti della pubblicità significa per noi ridurre i tempi per le procedure di selezione e di valutazione di quello che è la violazione in essere. Anche sul corpo della donna, per esempio, nell'ultimo periodo abbiamo avuto tantissime segnalazioni quindi era necessario, opportuno e richiesto dal basso, quindi dai cittadini, una tecnologia di questo tipo. Grazie all'applicazione iCorecom sarà possibile registrare da smartphone, iPhone, direttamente immagini o filmati ritenuti non adatti a minori, pochi semplici passi guidati e la pratica si trasforma in una segnalazione digitale. Noi registriamo molte violazioni sulla cartellonistica, la pubblicità in particolare, sulla parcondicio e anche la tutela dei minori questi sono i tre temi cardini, però voglio ricordare che questa app sarà a disposizione anche per le conciliazioni in telecomunicazioni, quindi con gli operatori della telefonia mobile e fissa. Abbiamo 4.000 conciliazioni all'anno, quindi sono segnali importanti e soprattutto di attenzione verso i più deboli e le categorie protette.